Amici di Android Blog, siamo sempre allo stand Samsung per dare una veloce occhiata a quelli che saranno gli accessori dei prodotti presentati a partire dalle Smart Cover con S-View Cover per la precisione e disponibili in diversi colori che possiamo vedere in questa teca adesso speriamo di riuscire a spostarci tra le cover per riuscire a vedere queste che si chiamano Flip Wallet le cover personalizzate da stilisti e comunque case importanti di design le vediamo da questa parte, qua avete i nomi delle case che hanno prodotto questi design così come i cinturini del nuovo Galaxy Gear Fit che potete vedere sempre nella stessa teca in molteplici varianti andiamo a vedere anche le versioni delle batterie removibili batterie che verranno probabilmente collegate allo smartphone mediante apposite cover chiediamo scusa per alcune scritte che possono risultare capovolte ma purtroppo come saprete c'è un sacco di gente e abbiamo difficoltà a muoverci possiamo vedere la cover wireless S-View è decisamente interessante e questo piccolo pad di ricarica, non sappiamo ancora se è induzione, non mancheremo di informarci ecco ora infine la parte musicale di questa presentazione con le cuffie in-ear Samsung Sound IG900 le cuffie sembrano davvero di materiali molto pregiati, quelle AOTR che si chiamano AG900 e che davvero risultano piacevoli alla vista andiamo a vedere anche in ultimo i cinturini del Gear 2 di cui avevamo parlato nella preview del Gear 2 però qua li vediamo in tutti i loro colori principali non mancheremo di informarci su altri accessori disponibili ma per adesso questo dovrebbe essere tutto